Ci siamo sbagliati, non c'è nessun fiore davanti alla torta. E tutti questi fiori che oggi adornano questo luogo erano tutti qui. Fino a domenica mattina... Michael Seifert, questo signore, è sepolto in un luogo del cimitero dove vanno gli indigenti. Un atto di umanità nei confronti di chi? Un criminale condannato all'ergastolo. Squartò una donna incinta e uccise il feto dinanzi a lei. Torturò e uccise ebrei, partigiani, nel lager di Bolzano. Eppure c'è chi lo omaggia. Mi fa star male. Non è possibile che un uomo con la U maiuscola possa veramente coltivare la memoria di tali personaggi che non hanno fatto altro che seminare il male, il male assoluto. Singolare la vicenda carceraria di Seifert. A denunciarla il procuratore militare di Bolzano, Bartolomeo Costantini. Questo signore viveva in una stanza singola, con bagno in camera, televisore, e la possibilità di usare il telefono quando voleva. E ancora oggi, alla mia età, quando cerco di immaginare ciò che poteva rappresentare quel tempo, non ci riesco, perché veramente deve essere stato un baratro, un baratro di ignominia.